Amici e amici salve a tutti come sempre ben ritrovati. Oggi ho il piacere di avere qui sul mio tavolo due prodotti Parkside in contemporanea, due prodotti analoghi per tipologia e altrettanto analoghi per fascia di prezzo perché costano entrambi 19,99€. Ora io ho acquistato in prima battuta questo qua di vella laser con metro di misurazione. Ho visto che non faceva assolutamente al caso mio, anzi ho grandi difficoltà a comprendere a chi possa tornare utile e quindi insomma comunque insoddisfatto prima di effettuare il reso ho visto che c'era quest'altra tipologia di livella a croce, sempre laser, e me la sono portata a casa anche in modo da potervi offrire un riscontro diretto e farvi vedere effettivamente quali sono le differenze di questi due prodotti. Ora, se questo realmente non serve a un benemerito piffero, questo può avere una sua valenza pur essendo comunque un prodotto di fascia molto molto bassa e di possibilità di utilizzo limitato rispetto ai prodotti professionali che addirittura arrivano a proiettare i loro raggi laser a 30, 50 o più metri, però tutto sommato per chi la deve utilizzare per trovare l'orizzontalità o la croce, la perpendicolarità all'interno di un ambiente chiuso e non troppo grande, anche se si tratta di una livella di fascia assolutamente hobbistica, può andar bene in modo da procurarsi con una minima spesa, uno strumentino che comunque possa offrire un discreto ausilio nel lavoro. Ora li vado a scompattare nuovamente entrambi e vi faccio vedere sostanzialmente quali sono queste differenze e particolarità. Allora, iniziamo con la livella laser con metro di misurazione che il metro, ora questo esula dal discorso Parkside, è molto simile a questo giocattolino qua, vedete? Questa è una chiocciolina che internamente alla sua casetta ha un metro siffatto, ok? E un metro avvolgibile. Vi faccio vedere ora cosa c'è qua dentro e capirete anche la terza analogia. Allora, andiamo ad aprire il nostro pacchettino, tiro fuori, voilà, saltano pezzi da tutte le parti. Cos'è questo? Questa è la nostra livella, vediamo se c'è la batteria, la batteria non c'è. E questo è il metro, vedete? Che dovrebbe trovare, dovrebbe trovarsi nel punto centrale dell'apparato, che però fra l'altro è anche fuori centro, e consentire rispetto a un centro di misurare la distanza dal nostro punto di riferimento. Da qui proietta un raggio laser, un unico raggio laser che corre lungo tutta la parete, e appoggiandolo a una parete dovremmo poter riuscire a verificare l'orizzontalità, perdonatemi, di questo raggio laser, andando a gestire questa rotazione dell'apparato. Praticamente questo si applica sulla parete, e capirete che se abbiamo una parete irregolare o leggermente storta, oppure a buccia d'arancia, il fissaggio risulta impossibile, perché fondamentalmente qui dietro abbiamo un tampone, per così dire, adesivo, che va bene per attaccarsi su mobili, mobili laccati, mobili comunque molto lisci. E poi si vorrebbe utilizzare, almeno a quanto dice il manuale di istruzioni, questo apparecchio, fissandolo alle pareti tramite queste due puntine, che ora cerco di togliere, di estrarle, ok, tramite puntine di questo tipo, che vanno inserite qua, come dei chiodini, e vedete, dovrebbero andare a fissare tutto quanto il discorso sul muro, uno da una parte e uno dall'altra, e reggere anche il peso e lo stress da rotazione, mentre andiamo a cercare la perfetta orizzontalità, così si dice, vabbè, avete capito. E poi andiamo a misurare fino a quando non troviamo il punto che ci interessa rispetto a questo centro, che è rappresentato da questo forellino che vedete là in mezzo, vedete, e basta. Cioè, una cosa assolutamente, secondo me, inconcludente. Quindi, questo io già l'ho messo da parte, l'ho scartato per i miei utilizzi, mi sono sbagliato andando a leggere quella che era la descrizione, pensando che fosse, a tutti gli effetti, una vera e propria livella laser, come in realtà è questa. Io, probabilmente, insomma, volevo acquistare questa tipologia di prodotto e non questo, di cui, veramente, anche oggi, andando a vedere nello specifico a che serve, non ne capisco proprio l'utilità. Ora, veniamo a noi e alla vera livella laser a croce. Questa qua, per la tipologia di funzionamento, è molto simile, un pochino, a tutte quelle che possono essere le livelle laser che troviamo nei cantieri. L'unica limitazione sta nel fatto che il raggio laser è un raggio rosso, anziché verde, che contraddistingue hobbistico da professionale, e in quanto raggio rosso, se la vogliamo utilizzare all'esterno, dove c'è la luce solare, praticamente non si vede niente, ok? O veramente si vede molto, molto poco, e sicuramente, a distanza già di qualche metro, perde tantissima possibilità di essere vista e delineata. Questo, tra l'altro, vi posso assicurare, questa perdita di visibilità ce l'ha anche all'interno, poc'anzi ho fatto una prova dentro casa mia, da una stanza all'altra, in 5 metri, praticamente su una tenda gialla, io il rosso della proiezione del laser, in una stanza comunque in penombra, riesco appena a vederlo, o quantomeno non è brillante come secondo me dovrebbe essere, per poter effettuare dei lavori, chiaramente con un minimo di luce. Ora, il fatto che la stanza fosse in penombra e riuscissi giusto a scorgere il raggio laser è veramente significativo, perché più luce c'è, meno ovviamente il raggio laser si vedrà. Quando stai lavorando in un cantiere, all'interno di un vano, un vano dove chiaramente se non hai la luce solare che entra, hai dei faretti, beh, questo qua insomma lavora difficilmente, è difficilmente visibile. Comunque, ha la sua valenza in ogni caso, per brevissime distanze, nell'ordine di 3 metri, forse 4, ma già 5, ripeto, perde tantissimo. All'interno cosa troviamo? Intanto il corpo macchina, se riesco a estrarlo, è un miracolo. Ok, che è questo qua? Poi, troviamo un supporto, che è molto comodo, devo dire, per il corpo macchina, che ha una filettatura, vedete, che si va a inserire al di sotto del corpo macchina, in modo poi, da poter alloggiare il tutto, o su un cavalletto, tramite questa piccola morsa, con questa rotella generosa, è gestibilissimo. Ecco, quello che mi piace molto, di questo utensile, di questo strumento, è proprio la piccola morsa, che è fatta, devo dire, non male. È interamente in plastica, questo sì, però, ha una gommatura, qui, nelle due prese, all'interno, ha una leggera gommatura, che chiaramente, poco a poco, andrà sfaldandosi, però, assicura all'inizio, la possibilità, di afferrare per bene, gli oggetti, dove andiamo ad ancorare il tutto, ed è discretamente regolabile, diciamo che, sostanzialmente, a un tavolo, ci si può agganciare, ma anche, a tante altre, a tante altre cose, in modo da, applicarla come mordente, e poi, applicare il nostro strumento, la nostra livella laser, all'altezza, e laddove, ci faccia più comodo, una volta che la andiamo a fissare, sulla, sulla vite, questa dovrebbe essere, non vorrei dire, una sciocchezza, da un quarto di pollice, o qualcosa del genere, forse anche meno, e, e poi, insomma, l'attacco è interamente snodato, vedete, sia qui, che qui, c'è la possibilità di gestire, lo snodo, e, e ci permette di angolare, come, come desideriamo, la nostra, la nostra livella, comunque, speso da due parole, per quanto riguarda, questa, questa piccola morsa, comunque, vi consiglio sempre, l'utilizzo, anche di un, piccolo treppiede, di quelli, economici, perché poi, questa qua, lavorerà a un certo punto, isolata, magari, non possiamo avere un mobile, o una struttura particolare, messa lì, a farci da supporto, per, per la livella, se abbiamo un treppiede dedicato, sicuramente, riusciamo a gestire il tutto, con, maggiore facilità, ora, comunque, veniamo alla livella, livella che è alimentata, da delle batterie, stilo, di tipo, AAA, vedete, sono queste qua, all'interno della confezione, ci vengono date, notare che, nello sportellino, vengono, marcati, positivo e negativo, quindi, riusciamo, senza sbagliare, a inserire le batterie, senza il rischio di, metterle con polarità inversa, dopodiché, lo sportellino, si aggancia in maniera, molto facile, ecco, di dietro ci sono, le, le molle che sparano, si aggancia in maniera, molto facile, ed è chiuso, comandi, di comandi, abbiamo, semplicemente, il sistema di blocco e sblocco, qui sotto, che è, a scorrimento, e poi, un, un interruttore, ora, il sistema di, sblocco e sblocco, come funziona, qui vediamo, che c'è disegnato, c'è stampato, impresso, un lucchetto, aperto e chiuso, quando, ehm, spostiamo, il cursore, il pulsante, dalla parte, del lucchetto, aperto, ci troveremo, una livella, autolivellante, ovvero, vedete che, in questo momento, è storto, è leggermente, sfalsato, eh, ve lo avvicino, vedete che, non è perfettamente dritto, perché, l'ultima volta, che l'ho bloccato, evidentemente, che, era, era in questa posizione, tutto il corpo, metallico, che vedete all'interno, si è spostato, protendendo, per la parte bassa, perché, in pratica, come funziona, qui sopra, ehm, è fissato, un corpo, oscillante, non è fissato, di sotto, e, per gravità, chiaramente, trova il proprio autolivellamento, fa tutto per gravità, nell'arco di quelli, che, ehm, a dire del manuale di istruzioni, dovrebbero essere circa, 4 gradi, e, quindi, se io, ehm, disattivo il blocco, perché, in questo momento, non si può muovere, vi faccio vedere, allora, sentite il rumore? Lo sto sbattendo un poco, adesso, è, dalla parte opposta, vedete che si sposta, è spostato rispetto, a come era prima, così come era prima, se giro di qua, sarà dalla parte opposta, ok? Questo perché, in base a come lo faccio cadere, eh, ora, chiaramente, l'angolazione è impropria, perché dovrebbe lavorare così, eh, per come è posta la camera, sto facendo tutto questo, per farvi, un pochino, rendere conto, al meglio, in base a come, eh, la gravità lo fa cadere, eh, in direzione del suolo, praticamente, lui va centrando, l'autolivellamento, in modo, per così dire, automatico, e pura fisica, pura gravità, niente di che, non c'è nulla di elettronico, a parte, la, la lucetta laser, che proietta, il, il raggio luminoso, e, mh, c'è anche la possibilità, di utilizzarlo, senza, autolivellamento, eh, eh, e quindi, quando, eh, ce l'abbiamo, in posizione, di blocco, io prima lo metto, livellato, ok, vedete, sapete perché si muove? Perché quando, io ci sto giocando così, no? eh, come un pendolo, va oscillando, fino a bloccarsi, fino a trovare, il suo equilibrio, e, non appena, trova l'equilibrio, praticamente, la luce, diventa verde, praticamente, quando rientra, nel range, dei più, eh, o meno, quattro gradi, diventa verde, e si ferma, se io tendo a, eh, inclinarlo, mi dice che, l'equilibrio, non è, eh, ottenibile, e la luce, qua, mi diventa rossa, appena, gli do la possibilità, di rientrare, nel range, dei quattro gradi, lui cerca, eh, l'equilibrio, fino a quando lo trova, ok? Ora, lo sto tenendo, leggermente inclinato, rispetto, al piano, del mio tavolo, però, lui comunque, eh, cercherà, e troverà, il suo equilibrio, continuo a ondeggiare, perché, chiaramente, la mia mano, non è ferma, ma, se già ci metto, questo, di sotto, vedete, siamo al limite, dei quattro gradi, cerco di spostare, vediamo un po', ok, così, anche storto, con un ostacolo, di sotto, che praticamente, non consente, la orizzontalità, della sua base, di appoggio, lui comunque, riesce, a determinare, con il raggio laser, quella che, eh, l'orizzontalità, della, di questa linea, ora, lampeggia, perché siamo al di fuori, di quattro gradi, e meno segnala, e, e quindi, insomma, l'autolivellamento, funziona così, c'è anche la possibilità, di usarlo, senza autolivellamento, cioè, io, per comodità, magari, eh, dovendo andare, a montare, che so, eh, il corrimano, di una scala, che chiaramente, è posto in maniera orizzontale, dal basso verso l'alto, o viceversa, ho necessità, comunque, di andarmi, a delineare, a tracciare, quelli che sono, i punti di fissaggio, del corrimano, alla parete, e in questo, eh, una livella laser, che segni, soltanto, l'orizzontalità, non mi serve a nulla, mi occorre, una livella laser, che, mi consenta, di avere una linea dritta, eh, che parte da un punto, e arriva, da un'altra parte, e quindi, eh, mh, piuttosto che, trovarmi, a non poter fare questo lavoro, perché, questa si, auto livella, ho la possibilità, di bloccare, il livellamento, quindi, la metto in questa posizione, vado, per, inserire il blocco, e tenendo premuto, il tasto di accensione, per alcuni secondi, ok, mi compare, comunque, il, il raggio laser, in questo caso, vedete, il led, è verde, eh, scusate, è rosso, verde, non ci diventerà mai, se io muovo così, non c'è più, eh, l'oscillazione, l'effetto pendolo, vedete, niente, è fisso, e quindi, questo qua, me lo posso girare, come meglio credo, ok, non, non cambia più, eh, questo, mi risulterà utile, in accoppiata, poi, con, il suo supporto, oppure, con un cavalletto, perché, chiaramente, mi gestisco, quello che è, l'inclinazione, della linea, che desidero, eh, vedere, sul, sulla parete, proprio, grazie a quello che, manualmente, mi vado a ricercare, come linea ideale, tramite questo, questo doppio snodo, e in questo modo, facendo così, ora, da una girata così, più o meno, mi vado definendo, l'inclinazione, di quello che potrebbe essere, un, un corrimano, chiaramente, inclinato, ora, detto ciò, poi, per spegnere, vado a premere, ulteriormente, ok, detto ciò, capirete, che, questa livella, mi può fare, praticamente, qualsiasi lavoro, limitatamente, a quello che è la, la portata, del suo raggio, quest'altra, praticamente, non trova, quasi mai, applicazione, la vendono, per, trovare, l'orizzontalità, di un punto, rispetto a un altro, nel caso, in cui, uno, dovesse appendere, due quadri, ma, voglio dire, tra, allo stesso prezzo, stesso ingombro, e stessa facilità, d'uso, praticamente, quale andate a preferire, in realtà, questo è ancora più facile, da usare, perché, non correte il rischio, che i chiodini, vi si stacchino dal muro, qui dovete avere, le condizioni perfette, ideali, per utilizzarlo, ma, purtroppo, come vi ho mostrato, anche, nel primo video, di unboxing, la, la scala graduata, è fuori centro, iniziamo da qui, eh, i supporti posteriori, ce ne sono tre, eh, perché, chiaramente, si vanno rovinando, e poi, uno li deve, ulteriormente, comprare, in pacchi da cinque, sempre ammesso, che ci siano, e che te li mandino, e poi, non sappiamo, quanto costano, cioè, se tutto l'apparato, costa 20 euro, i ricambi posteriori, degli adesivi posteriori, cinque, tra spedizione e costo del prodotto, quanto ti vengono a costare, 10 euro, 15 euro, proprio, non ne vale la pena, assolutamente insensato il discorso, e poi, voglio dire, con questo, posso fare tutti i lavori, che farei con questo, mentre la cosa viceversa, non funziona, non ha senso, ragione per cui, è chiaro che, non dovendo, fare lavori, di chissà, che, particolarità, in condizioni di luce, forti, o in esterno, questo potrebbe essere, un ausilio, interessante, da tenere in casa, laddove abbiamo bisogno, di determinare, l'orizzontalità, di qualsiasi cosa, che siano mensole, che siano quadri, che siano, ad esempio, la realizzazione, di un massetto, questo ci può venire, in soccorso, ripeto, non è, il top del top, perché per avere, un buon prodotto, dobbiamo spendere, almeno tre volte tanto, però, diciamo che, nel suo piccolo, si difende, cioè, è come avere, un motorino, 15cc, di cilindrata, non ti farai, 40 all'ora, ma almeno, insomma, dal punto A, al punto B, con qualche, senza esagerare troppo, ti ci porta, questo, non va da nessuna parte, d'accordo? Spero di essere stato chiaro, di avervi mostrato, qualcosina in più, che vi sia piaciuto il video, poi, per tutto il resto, come si dice, like, e iscrizione al canale, ci sono qui, ciao!